a livello democratico questa roba poi in pareggina tattica non serve a niente perché alla fine pure c'è la Juve, insomma pure si va all'Inter, all'Iran, c'è la Juventus dopo l'Ebu al Manchester City, al Bayern Monaco, al Real Madrid, a Barcellona, a Liverpool tutte queste squadre, sono squadre che lottano per cercare cosa? che cercate da vincere i campionati, quindi alla fine ogni anno si vince, non è che si vince mezzo anno i finiti campionati, si vince tutti anni, tutti, non è che la transizione non esiste, al di là del mercato che si produce la squadra a livelli dei giocatori, dell'arma, la Juve, devi sempre vincere l'età, in attacco ci vedi, si gioca, ci vedi, se mi chiamano ci vedi, ci vedi, ci vedi, sono 96, ancora sono un po' giovane dai, sono proprio giovanissimi, 18, 19, 20 anni, però a livello di age, diciamo, a livello, a livello di age, un cazzo si dice cosa, 20, 26 dai, però alla fine ci stavano, ma la Juve, ragazzi, il Reventus, ricercate vincere, poi c'è stata la Roma, la Roma con De Rossi, poi si è ripresa, la Roma con De Rossi alla fine era partita, era partita con Mourinho, con Mourinho avevano un po' di risultati, però i risultati sono stati allenanti, perché a me la squadra è molto decente, che sono d'atteggiamento, il calcio è molto semplice, bisogna, è questione sempre di atteggiamento e di cosa, e di come scende la squadra in campo, alla fine è sempre quello, e questa roba è inutile, un pedazzo di roba, cose varie, strane che alla fine è sempre quello, il risultato alla fine conta, e poi se gioca bene, se vince il cazzo, e questo a che serve, e alla fine contano i trofei, Contano, alla fine contano i trofei, contano, non è che se vanno facendo, se vanno facendo se vanno facendo il ladro, alla fine è cheso, poi se la Juve contano i risultati, contano, cioè poi se vanno facendo il ladro, se vanno facendo il ladro, sempre là stiamo, però contano sempre i risultati quando ci scende il campo, quando ci scende, comunque chiesa poi la partita lo giochi del gioco ma entrate commentate come ti direte iscrivetevi sempre al canale ma iscrivetevi sempre mostrare un po come c'è ammusa il video pubblico anche anche qui decol può fare il collo con fatto comunque sia questa c'era stata la roma poi c'è stata il milan c'è alla fine milan pure la partita bene poi poi è crollato è crollato un po il milan ma alla fine diciamo tutto sommato secondo terzo posto poi l'inter sta a fare come il napoli l'anno scorso la lazio con la lazio campionata sardi con tudor ma alla fine la musica è sempre la stessa insomma c'è se non troviamo la squadra chiesa sempre chiede poi ma i commenti come si fanno a vedere qua i commenti chi entra in tal canale come cazzo si fa a vedere la diretta per vedere i commenti che entrano soprattutto per vedere la cosa per vedere come si chiama la i commenti soprattutto poi vedete come al di là dei commenti ma vedete se cazzo come è la poi vedete i commenti che si ma poi io vedo pure se sapete una cosa però se sapete chi sta vedendo insomma la del canale che